Tratto dal racconto Il dubbio di Evelina. Don Sergio mi fermò e il mio cuore prese il galoppo. Perché non sei venuta con gli altri ragazzi? Mi chiese con quel sorriso che mi era piaciuto tanto e che ora trovavo insopportabile. Ho da fare, poi devo studiare, poi mi bloccai. Davvero avevo il coraggio di vomitargli addosso la vera motivazione? Non feci in tempo a capire se ne fossi stata capace perché iniziò a parlare con un tono della voce rigida. Sai, credo che tu sia una ragazza stupida con in testa idee malsane, incline a vedere il marcio dove non c'è, pronta a crocefiggere qualcuno per le tue fantasie. Mi guardava senza dissorri negli occhi e le sue parole giravano nella mia testa come la spazzola del camioncino per la pulizia della strada. Pensaci e fatti un esame di coscienza. Si congedò lasciandomi con un senso di colpa e il dubbio che mi fossi immaginata tutto quanto. Riarrotolai il ricordo di quella sera, sezionai ogni azione. Avevo davvero franteso il suo comportamento. Ero così incapace di distinguere un gesto d'affetto amicale con qualcos'altro. Eppure, non riuscivo a togliermi dalla testa il movimento della sua lingua nel mio orecchio. Ed era tanto reale. Per molto tempo quella storia mi lasciò dentro un senso di vergogna, di sbagliato, una solitudine profonda.